L'amministratore della società in house della provincia di Teramo, Venanzio Cretarola, nell'anticipare all'uscita del Tribunale, che oggi si dimetterà dalle sue funzioni, precisando però di farlo soltanto perché la società è ormai chiusa, per i noti problemi, punta il dito contro chi lo ha accusato di non aver mai lavorato da amministratore e di aver in sostanza rubato stipendio. Lancia accuse contro due dirigenti della provincia, che a suo dire lo avrebbero messo nei guai. Contro di me una campagna mediatica, dichiara. Sono profondamente indignato, ha aggiunto Cretarola, sul piano professionale e personale, di essere accusato di aver percepito indebitamente del denaro se si pensa che ho rinunciato all'indenità di carica, per cui non c'è bisogno di riscontro di attività e soprattutto non è richiesta la presenza. Un interrogatorio ha durato due ore davanti al GIP Giovanni Drensis e il PM Stefano Giovagnoni, durante il quale ha risposto a tutte le domande dei magistrati, ribadendo che la sua condotta non è stata né truffaldina e né ha violato la legge. Infine, dopo il confronto in procura, Venanzio Cretarola, accompagnato dal suo legale Cataldo Mariano, ha dichiarato di aver fatto di tutto per salvare i posti di lavoro dei 110 dipendenti, che ora invece sono a casa. Intanto, Cretarola ha ottenuto un'aderoga al divieto di dimora, mentre il suo legale avanzerà richiesta sia di revoca della stessa misura cautelare, che la possibilità di rivedere anche il sequestro dei conti correnti.